Tutti pazzi per la street art. È uno dei diversi titoli apparsi sui tabloi nazionali e internazionali in occasione della seconda edizione di OSA, Operazione Street Art, che ha visto per una settimana invadere i vicoli e i condomini dei palazzi della cittadina tirrenica di Diamante, da artisti famosi e giovani emergenti provenienti da diversi paesi, armati di colori, pennelli e fantasia. Ormai conosciuta in tutto il mondo come la città dei murales, un progetto iniziato nel 1981 grazie all'idea del pittore Nani Razzetti ha visto la realizzazione di oltre 300 murales in questi anni e che oggi si rinnova in un passaggio di testimone grazie all'impegno di un giovane artista locale, Antonino Perrotta, ideatore del festival. Se è possibile questa operazione è grazie innanzitutto al Comune di Diamante che patrocina l'evento, l'associazione degli albergatori che ha dato l'ospitalità agli artisti, gli istoratori di Diamante hanno dato la possibilità di un passo per gli artisti, i commercianti e tutti i cittadini che hanno contribuito anche attraverso donazioni alla nostra associazione. Un'intera comunità che ha inteso vestire la propria cittadina è anche lanciando quelli che sono messaggi, messaggi importanti perché voi per la seconda edizione avete un filo conduttore. Sì, abbiamo un filo conduttore che è quello dei diritti umani è una vera e propria tematica che ogni artista cercherà di interpretare a seconda della propria sensibilità, a seconda della propria tecnica e a seconda della sua motivazione personale. Penso che nel caso di Diamante l'arte pubblica è ancora più bella perché è partecipata e condivisa dal basso, da tutta la cittadinanza che ha contribuito a che l'evento riuscisse. Qual è il vostro messaggio più importante che intendete lanciare soprattutto ai giovani? Il messaggio più importante è essere coesi. Noi stiamo usando, come è il nome di questa manifestazione che è l'acronimo di Operazione Street Art. Non è stato scelto a caso perché deriva dal termine osare. La cosa più bella, quello che noi vogliamo comunicare è che se si è più uniti si riesce a raggiungere in maniera più facile un obiettivo che magari è alla portata di tutti.